Ciao e bentornati agli inciuci di Chicca e Reli, il programma dedicato al gossip a cura della relazione di Per Sempre News. Un'estate romana ricca di divorzi, non stiamo parlando di Ilari Blasi e Francesco Totti. Questa volta infatti parliamo di Claudio Amendola e Francesca Neri. A quanto pare infatti dopo 25 anni di matrimonio e un figlio di 22 anni, oggi non sono più una coppia e sembrerebbe infatti che Claudio Amendola sarebbe già trasferito e abbia già traslocato dalla casa appunto in cui conviveva con Francesca Neri. Tra i due infatti sarebbe finita già da tre mesi e a quanto pare il cuore dell'attore sembrerebbe battere per un'altra donna. Per adesso però non si conosce l'identità di questa ragazza e quindi vi chiediamo, secondo voi di chi si tratta? Ragazzi continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, noi ci vediamo venerdì prossimo sempre con Kik e Reni, sempre con un altro inciucio. Ciao!